Musica Ben ritrovati a questo appuntamento con l'ufficio di parità della provincia, ma potremmo dire anche della regione perché Naura Amoretti che è qui con noi è consigliera di parità sia di provincia che di regione ma parliamo anche di lavoro, di collocamento e lo facciamo con altri ospiti che sono qui con noi quindi intanto un saluto a Naura, buonasera e benvenuta e un saluto agli altri nostri ospiti, Cristina Liberati, funzionario del collocamento Mirato della provincia di Imperia poi scopriremo che cos'è, benvenuta, grazie per essere con noi e Michela Odasso, responsabile del personale di Mantors Italy, benvenuta, grazie per essere qui con noi allora, Laura Amoretti, parleremo appunto di collocamento Mirato perché l'argomento è importante, delicato tante volte abbiamo affrontato il tema della discriminazione anche sui luoghi di lavoro ma in questo caso si tratta di un qualcosa di diverso, per certi valessi anche peggiore la discriminazione legata a una disabilità che può essere temporanea, momentanea oppure una disabilità che purtroppo, ahimè, rimane con la persona ecco, un aspetto molto particolare, molto delicato Sì, molto delicato che merita veramente oggi di dedicare uno spazio anche per capire nell'ottica di una disabilità della persona sul lavoro quali opportunità ci possono essere anche perché io voglio parlare sì di discriminazione ma dalla discriminazione all'opportunità una persona si può trovare in una situazione di disabilità o temporanea o permanente e occupata quindi sul posto di lavoro può subire anche per questo delle forme di discriminazione perché? Perché una persona che si ammala e che rientra dopo un periodo appunto di malattia sul suo lago di lavoro potrebbe essere non demansionata giustamente a volte il demansionamento può essere anche positivo per la persona perché se io ho determinate patologie deve essere rivisto le mie mansioni e quindi delle mansioni più appropriate rispetto alla patologia che o temporanea o permanente io in quel momento vado a vivere il sottovalutare la persona in ingresso nel mondo del lavoro della persona che si trova in una situazione di disagio proprio causata dalla permanenza di una disabilità può essere oggetto di discriminazione e questo sicuramente deve essere da noi tutelato quindi la persona può rivolgersi al nostro ufficio e noi avremo l'obbligo, il dovere di permettere una conciliazione col dattore di lavoro proprio per poter arrivare al benessere della persona che si trova in quel momento in una situazione di disagio Allora cerchiamo di capire meglio come funzionano questi uffici provinciali e anche in modo particolare il collocamento mirato che cosa significa? C'è un collocamento specifico per chi ha delle disabilità? Sì, innanzitutto c'è questo ufficio che è specifico per quelle persone che appunto hanno i requisiti per iscriversi ai sensi di una legge la legge 68-99 che tutela tanto le persone che sono portatrici di un'invalidità civile quanto portatrici di un'invalidità inail quanto appartenenti a quelle categorie protette come i figli dei profughi delle vittime di terrorismo e tutta una serie di altre normative che poi variano col tempo e vengono anche implementate Queste persone che hanno i requisiti si possono iscrivere quindi al collocamento mirato e usufruire dei servizi specifici e specialistici che vengono erogati per facilitare il loro ingresso o reingresso nel mondo del lavoro perché come diceva la dottoressa Moretti ci può essere una situazione pregressa, duratura, magari dalla nascita ma ci sono anche tanti casi di invalidità, di problematiche sopraggiunte per fattori di vita, può essere l'incidente stradale, può essere un improvviso diabete un problema circolatorio possono essere tante le motivazioni ciò che sta di fatto è che la persona che ha un'invalidità, una disabilità ha una capacità diciamo funzionale inferiore rispetto alla norma ma questo non vuol dire che non ne ha ne ha in maniera ridotta rispetto a quella maniera ridotta bisogna trovare il modo giusto per inserirla nel mondo del lavoro perché ci sia la giusta corrispondenza tra ciò che la persona che può dare e ciò che il contesto lavorativo le chiede allora cosa si fa? si inizia anzitutto un'invalidità non è un'inabilità totale al lavoro nel senso adesso anche per fare un esempio stupido e banale una persona che ha perso un arto beh non lo manderemo a fare l'arampicatore ecco avrà delle difficoltà il potatore ma potrebbe essere per esempio un genio dell'informatica o della matematica dei conti quindi una cosa non precluda l'altra è proprio il concetto come diceva il dottore Samoretti che va un attimino rivisto perché non crei discriminazione certo avere una limitazione non vuol dire non avere capacità di dare bisogna lavorare sulle capacità di dare bisogna riconoscerle sia da parte del lavoratore sia da parte delle aziende è sempre infatti il giusto connubio da un lato il lavoratore con le sue capacità che non devono essere valutate solo di solito si lavora sul negativo lavoriamo sul positivo su quelle che sono le capacità e farle comprendere anche l'azienda mettere sul piatto l'azienda sa che può avere un lavoratore con quelle capacità con quella professionalità esattamente esattamente questo non provoca discriminazione anzi è sempre come dico sempre il benessere dell'uno e dell'altro assolutamente ecco parlando di esempi applicati c'è con noi appunto Michele Odasso che è responsabile del personale di Montars Italy che insomma è una multinazionale molto importante tra l'altro ha sede nel territorio imperiese ha una delle sedi nel territorio imperiese voi che come realtà voglio dire non siete la piccola azienda come affrontate questo problema come lo avete affrontato e che esempi se ce ne sono nella vostra struttura Montars Italy da sempre crede che la diversità sia un valore aggiunto quando parliamo di diversità non parliamo soltanto di diversità di genere di età di provenienza nazionale ma anche di disabilità crediamo che creare un ambiente inclusivo proprio dalla diversità delle persone dal background dalle competenze dall'esperienza vissuta sia un valore aggiunto team diversificati fanno sì che ci sia una diversità di idee di innovazione e quindi da sempre Montars è impegnata nel dare l'opportunità di inserimento a persone che momentaneamente o temporaneamente o hanno delle difficoltà con dei limiti oggettivi siamo siamo un'azienda metalmeccanica però siamo impegnati assolutissimamente insieme al collocamento mirato in questo progetto quindi insomma si tratta anche di garantire un po' qualità della vita e dei rapporti interpersonali all'interno di una struttura una grossa multinazionale il primo impatto che quando si dice la parola multinazionale è un qualcosa di freddo di distante si può far diventare qualcosa di caloroso per quello che è possibile voglio dire umano assolutamente credo che il primo obiettivo di Monters sia quella di garantire ai propri dipendenti uno standard qualitativo lavorativo ottimale so che ad esempio se non è cambiato io ricordo una visita di un po' di tempo fa c'era ad esempio l'uso l'abitudine di non far fare mai a una persona per tante ore sempre la stessa cosa ma cercare di far fare un po' di tutto a tutti per quello che è possibile nelle specificità voglio dire perché perché non diventi proprio una catena di montaggio automatica è vero assolutamente la job rotation nella nostra azienda si fa a tutti i livelli quindi questo significa anche un po' stare attenti anche alla crescita immagino attenzione al dipendente sì assolutamente anche perché se cresce lavora meglio ne ha un vantaggio alla fine di impresa no? assolutamente se un team diversificato lavora con un obiettivo comune e con serenità le ripercussioni poi si hanno anche a livello di performance economiche ecco di fronte a delle disabilità avete già avuto esperienze ne avete sì assolutamente abbiamo come funziona se mi posso per me abbiamo dei ragazzi che lavorano con noi da anni assolutissimamente la loro diversità è accettata si è creato un ambiente inclusivo sappiamo che queste persone hanno dei limiti oggettivi e insieme cerchiamo di far fronte ai loro bisogni e contemperandole con quelle che sono le esigenze aziendali grazie allora Laura Monetti direi che la frase conclusiva è volendo si può sì e approfitto di questa frase conclusiva che volendo si può perché oggi abbiamo sentito l'esempio positivo di un'azienda e il connubio quello che io tengo sempre a precisare fra pubblico e privato cioè perché è solo così che possiamo riuscire a raggiungere gli obiettivi per il benessere del lavoratore e il benessere dell'azienda a questo proposito proprio parlando di benessere aziendale si è aperto un bando a livello regionale quindi invito anche tutte le imprese le aziende della nostra provincia a partecipare a questo bando che si è aperto e lo si trova sia sul portale dell'INA e del regionale sia quello della consigliera di parità regionale che prevede proprio il poter accedere a questa partecipazione con degli esempi di benessere organizzativo cioè noi abbiamo voluto insieme all'INAIL aprire questo bando che sarà avrà la scadenza del 15 maggio proprio per poter presentare dei progetti dei percorsi di benessere organizzativo in cui veramente vogliamo arrivare a premiare le aziende virtuose e così fare un po' di cultura di benessere aziendale vedere come pubblico e privato insieme possono lavorare per il benessere della persona dei lavoratori e delle aziende grazie grazie allora a Laura Moretti consigliera di parità della provincia e della regione provincia di Imperia chiaramente un grazie a Cristina Liberati che invece è funzionaria del collocamento mirato della provincia di Imperia abbiamo appunto capito che cos'è ed è un aspetto molto importante del collocamento perché si rivolge a quelle fasce o per qualche motivo un po' più deboli oppure perché appunto con problemi di salute o fisici e ancora grazie a Michele Audasso responsabile del personale di Montess Italy di questa grossa multinazionale che abbiamo visto insomma spatare un po' il mito delle multinazionali distanti fredde senza nome ma quando si vuole si può anche essere grandi ma vicini al piccolo alle persone e ai lavoratori poi alla fine l'azienda ci guadagna in produttività grazie a tutte voi grazie al pubblico che ci ha seguito un arrivederci a presto 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 Grazie a tutti.